All'Aquila sarà un ferragosto di cultura. Per venire incontro ai numerosi turisti in visita in città in questi giorni sono diverse le iniziative e le aperture straordinarie. Il Munda resterà aperto a ferragosto con delle novità. Il museo sarà fruibile dalle 8.30 alle 19.30 e permetterà ai visitatori di vedere il nuovo allestimento della sezione archeologica ai tempi di Amiternum. Con la ricostruzione grafica del calendario amiternino, un supporto didattico, i due busti dell'imperatore Tiberio e di suo figlio Druso Minore, due opere che sono in prestito dal Museo Nazionale Romano. Vicino al Munda si potrà ammirare liberamente la fontana delle 99 cannelle. Anche il Mammut al Castello Cinquecentesco sarà aperto dal 15 al 28 con un ampliamento dell'orario nella settimana della perdonanza. Queste le date e gli orari dal 15 al 21 agosto, dalle 10 alle 19, dal 22 al 28, dalle 10 alle 23, con prenotazione obbligatoria e biglietto che comprenderà l'ingresso al Munda e si potrà acquistare alla biglietteria del Castello. Anche il Maxi a Palazzo Ordinghelli a Ferragosto sarà aperto dalle 12 alle 20 con un'apertura straordinaria. All'interno la collettiva internazionale di 26 artisti e si potrà interagire con Dendalò, un progetto vincitore di un nuovo programma del Maxi, dedicato alla promozione di architetti emergenti e alla valorizzazione di spazi pubblici. Per agevolare i turisti saranno aperti gli infopoint comunali e l'agenzia Welcome, a Cooke e anche IAT, dalle 9 alle 13.30. Per Ferragosto sarà inoltre aperto al pubblico anche l'Anfiteatro Romano di Amiternum, dalle 9 alle 13.30. A Pizzoli, comune dell'Aquilano, è festa per tre giorni a ridosso del Ferragosto e anche il 15, il centro storico, sarà animato da un mercatino artigianale. Nel circondario sono aperte le grotte di stiffa a San Demetrio, tutti i giorni, compresa a Ferragosto. Sino al 16 si faranno ingressi ogni 15 minuti, dalle 9.30 alle 18.00. È preferibile acquistare biglietti online, fanno sapere, per non fare lunghe file. C'è inoltre una navetta a disposizione che da San Demetrio porta il visitatore direttamente alle grotte.